Tu credi alla risurrezione? Credi che Gesù Cristo è risorto e in questo momento è vivo e tu puoi partecipare della sua risurrezione, cioè vivere qui, su questa terra, la tua vita da risorto, da vittorioso sulla morte e sul peccato? Tu lo credi? Perché se tu credi veramente questo, puoi cominciare a vivere già qui, sulla terra, come un angelo del cielo, cioè come un messaggero della vita celeste, come un ambasciatore di una vita oltre la morte. E la vita oltre la morte significa amore, significa amare veramente, amare sino alla fine, come ha amato nostro Signore Gesù Cristo sulla croce, cioè sino all'ultimo respiro, sino all'ultima goccia di sangue. Chi crede nella risurrezione, cioè chi appoggia completamente la sua vita, la sua esistenza, il suo pensiero, i suoi affetti, tutto di se stesso, la sua stessa carne, su nostro Signore Gesù Cristo risorto e vivo, vive la stessa vita di nostro Signore Gesù Cristo. Ama sino alla fine. Non gli passa nemmeno per la testa di possedere l'altro, di renderlo un oggetto di sua proprietà. Impossibile, perché credere alla risurrezione significa averla sperimentata. E chi ha sperimentato la risurrezione nella propria vita è già risorto con Cristo. Oggi già siede con Lui alla destra del Padre, come dice San Paolo, non dopo la morte. Già oggi partecipa, cioè, della vita divina. È già cittadino del Regno di Dio, della Gerusalemme celeste. Per questo la sua vita è mossa da un fuoco che non si consuma, il fuoco del roveto ardente nel quale si è rivelato Dio a Mosè. Io sono colui che sono. Io sono il presente eterno. Abbraccio il tempo, abbraccio lo spazio. Io sono la libertà. Io sono l'amore vero, autentico, che non ha limiti. Chi crede nella risurrezione vive in Dio, pur nei limiti della carne, delle malattie, dei dolori, delle sofferenze, la debolezza della carne, che comporta anche cadute nei peccati, certamente, ma in questa precarietà già nuota in questo oceano senza fine del suo amore. Quando si sposa, non si sposa come ci si sposa nel mondo. Si sposa per donarsi gratuitamente. Ed è stato reso degno del cielo perché ha lavato le sue vesti, cioè la sua vita, nel sangue della mia leone. È figlio di Dio. Un germe divino abita in lui. Riconoscerà in ogni persona il volto di Cristo, al quale offrire la propria vita, il proprio tempo, tutto se stesso, con amore.